Bella a tutti da Visca, siamo alla diciassettesima puntata se non sbaglio, aspettate che abbasso il volume, ok, beh cosa dire, spero che, allora ho visto che è uscito lo speciale di Halloween, ecco sto zitto C'è questa conversazione sicura? Non preoccuparti, il monitor è fuori. Ok, cosa succede? Stavo in la F.B.I. anche, sai. Non c'è questo, qual è il tuo punto? La storia del Dr. Hunter sui sui l'interno, sui l'aporto di essere un'assistante a Hoover in la F.B.I.? Si. E poi andare a scoprire per investigare la mafia in New York. Si, cosa sui? E' un'assistante. C'è un'assistante. C'è un'assistante? E' un'assistante che mi ha fatto, perché lei si scoprire per questo? Lei si scopriva? Lei si può essere un'assistante. Ridicoloso. Come on, anche un'assistante di high school può vedere. Il presidente della F.B.I. a quella volta, Edgar Hoover, era un'assistante rascista. Non si diceva che lui padre era un'assistante? Si. Si. Beh, non c'è un'assistante rascista di un'assistante. E anche, nel 1950, le operazioni di mafia in la F.B.I. non si startavano ancora. Il primo è in 1960, in Chicago, non New York. Ma... ... ... ... ... ... dovremmo, teoricamente, sconfiggere... ... 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 Sto testi a vedere che tipo di mani sei. Il giudizio è deciso. Il Ravens dice che sei un vero warrior. Amo i hallucinati? Non posso andare! Il Ravens ha imparato la morte di morte di te. Il sangue da l'East flows within te vasi. Ah, i vostri ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed Ravens and Snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the Ear Pool. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You wanna pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoys Snake, ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is ironing or words. As in the sea. Come is easy to have to confiscate this bestiary come lo sconfiggiamo allora i metodi sono tanti allora in teoria si dovrebbe sconfiggere con lo stinger no? scusate se parlo poco ma il motivo è sempre quello perché il livello di concentrazione è abbastanza alto infeggendo questo bestione qua notte di culo enormi ah shit 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 so che cazzo faccio ottimo o se no anche Nikita ecco no pessima idea pessima idea ragazzi dovrei sconfiggere solo con lo stinger però qua non spunta fuori la sua testolina ah Dio 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 Andiamoci Ottimo Ehm ragazzi Non so se riuscirò francamente a battere questo bastione Però Cioè nel senso A farvi vedere A farvi vedere Il video Vai Vai Guardate veramente se Non parlo molto Ma Pucca puttana Stavo a sgavare il mio frocio Allora Fio di puttana qua E' lungo da battere No? Uno poi deve stare qua Così Con cos'ho puntato Muovi Oh In pratica questo qua Questa sarebbe la tecnica Ecco Una volta che prendi però Il ritmo E' anche abbastanza Diventa anche abbastanza Semplice E' altumatica Adesso se muovi Fanno favore Ottimo Il video non so se riuscirò Ripeto A farvelo vedere Cercherò di fare il più in fretta possibile E' riuscire E' un po' veramente Cazzo sei J-Mot Oh C'è una posizione abbastanza esotica Via Oh Manca ancora poco Penso che con un missile Posso tirarlo giù Via Cazzo l'erro Ok Ok baby Mi lascio il video Just as the boss said It is my existence Which is no longer needed in this world But My body will not remain in this place My spirit And my flesh Will become one with the ravens In that way I will return to Mother Earth Who bore me Snake I will be watching you Understand Snake Take this security card It will open that door Why? You are a snake Which was not created by nature You and the boss You are from another world A world that I do not wish to know Go and do battle with him I will be watching from above First I'll give you a hint The man who you saw Die before your eyes What is it? Why? Heee That was not the darker chief It was Decoy Octopus A member of Foxhound He was a master of disguise He copied his subjects down to the blood So he drained the chief's blood And took it into himself But he wasn't able to deceive the angel of death The angel of death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint You must solve the rest of the riddle yourself Snake In the natural world There is no such thing as boundless slaughter There is always an end to it But you are different What are you trying to say? The path you walk on has no end Each step you take is paved with the corpses of your enemies Their souls will haunt you forever You shall have no peace Help me Snake My spirit will be water You shall have no peace You shall have no peace You shall have no peace And now we'll see you Snake, it's me Master It's about Naomi Turn your monitor off What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away She's taking a short nap So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too Yeah, go on, Master Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all What? I thought her story of her background sounded kind of fishy So I checked it out And there is an actual Dr. Naomi Hunter Or I should say there was one Bene, ragazzi, mi fermo qui perché non ho più tempo Spero che la puntata vi sia piaciuta Spero che la serie vi piaccia Manca, vi dico già poco alla fine Però voi continuate a seguirci Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al nostro canale E seguiteci su Facebook Bella la visca E alla prossima Ciao